Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi vi mostro due make-up ispirazione per San Valentino o per qualsiasi altro momento voi vogliate. Uno si concentra tutto quanto sugli occhi, con protagonista questo colore comunque minaccia e ho utilizzato la matita della Mesauda, in particolare è la 107, una matita veramente molto bella, molto pigmentata e long lasting soprattutto, quindi a prova di lacrimucce. E invece l'altro make-up che vedrete, perché ne vedrete ben due in questo video, è tutto quanto con il focus sulle labbra, con questo bellissimo rossetto, questo della Wicom, ed è il 14 se vi interessa, della linea Long Lasting Liquid Lipstick. Questo è un rosso caldo, però ci sono tante altre varianti di rossi freddi da Wicom, trovate veramente l'imbarazzo della scelta. Su nell'infobox trovate il dettaglio dei vari prodotti che ho utilizzato, quindi andate a dare un'occhiata e ora vi lascio al video. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.